La conquista della cruce La conquista della cruce La conquista della cruce La conquista della cruce a video faccio della della forza ecco come fai stiantare la bomba e finalmente i macorati sono andati a fare il fuoco quando ci stavano sticcio no loro per i salcicci normali ah c'hanno salcicci qual'è la pizza una volta se la faccio proprio le saliette vai corca se vive tanto bene in casa perchè bisogna andare fuori io lo abituassi quando non c'è la propria quando non c'è la propria li ruba la roba oh basta è il pegasu ecco non è il pegasu è tipo la quale sono partiti no non ha capito ancora si organizzi con una letta mi sono organizzati con una letta si organizzi con una letta venite qua e sto organizzati grazie a te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti